Buongiorno e ben trovati da Alessandro Ranieri in questa nuova edizione del Tg di Newsmarket.it. Lunedì 21 ottobre scopriamo insieme quali sono i titoli delle principali notizie di oggi. Manifestazione sotto la pioggia dei lavoratori del gruppo Indesit a Fabriano in attesa del tavolo di oggi pomeriggio a Roma al Ministero. Femminicidio in segue, l'ex con un coltello, 44enne in stato di fermo a Porto Sant'Elpidio. Scoppia il caso dell'assessore PD di Civita Nuova Marche Pro Benito Mussolini, si dimette. A Ertorica il governatore delle Marche spacca sull'aeroporto di Ancuna, non abbiamo mai mollato. Molto bene, partiamo subito dalla notizia che riguarda Civita Nuova Marche, l'aggiunta di Civita Nuova Marche. L'assessore che ha elogiato Benito Mussolini è diventata di rilevanza nazionale. Antonella Sglavo, l'assessore comunale ai servizi sociali di Civita Nuova Marche del Partito Democratico, è finita proprio in un ginepraio di polemiche per le sue clamorose dichiarazioni fatte sul social network Facebook. Tra le frasi postate, quindi scritte dall'assessore, non vedrò più a sinistra alcuni insulti ai marchigiani e Benito ci vorrebbe ancora. Ha rimesso il mandato l'assessore al sindaco Corvatta e in una lettera proprio al sindaco, la Sglavo ricorda il suo impegno di amministratore in un anno e mezzo di assessorato e conclude se tutto ciò va in secondo piano e viene annullato da un commento faceto su un social network, chiedo scusa al sindaco Corvatta per l'imbarazzo che posso avergli procurato e rimetto a lui le mie deleghe nella convinzione che saprà assumere le decisioni più opportune. Questo è quanto, adesso occupiamoci delle notizie della provincia di Ancona, ci colleghiamo con la redazione di Radio Conero. Chiara Principi. Ben ritrovati dalla redazione di Radio Conero. La categoria del settore trasporti piange l'ennesima morte bianca ad una settimana dalla giornata nazionale per le vittime sugli incidenti sul lavoro. A perdere la vita, questa volta in un tragico incidente alla stazione di Falconara Marittima, a pochi passi dalla pensione, Luciano Serrani, 61 anni. A Erdorica non è nel modo più assoluto senza guida, tutt'altro, non lo è mai stata e non lo è oggi. Così il presidente pro tempore di Erdorica S.p.A., Paolo Costanzi, che è il rappresentante della Regione Marche nel Consiglio di Amministrazione. La Regione continua con grande senso di responsabilità a presidiare questa società che gestisce l'aeroporto di Ancona-Falconara, garantendo lo sviluppo dello scalo. Ed è tutto. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito radioconero.it. Grazie Chiara. Ha rincorso la sua ex con un coltello in mano, accecato dalla rabbia. Non accettava la fine della loro relazione. È successo per le vie del centro di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, dove un 44enne con precedenti di polizia ha inseguito la donna, una romena di 32 anni, minacciandola di morte dopo averla vista insieme al nuovo compagno. L'intervento immediato dei carabinieri e dell'attuale compagno della 32enne hanno scongiurato il peggio. Per l'uomo è scattato il fermo, dovrà rispondere dei reati di atti persecutori e tentato omicidio. È giunto il momento di collegarci con la redazione di Radio Velluto. Ascoltiamo Alberto Livieri. Grazie e bentrovati. Brutta caduta dalla sua moto da cross presso la pista a Sant'Angelo di Senigallia. È successo sabato scorso, 19, nelle prime ore del pomeriggio. Un diciassettenne senigallese stava percorrendo un tratto in discesa della pista, dove è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza, che ha trasportato il giovane pilota all'ospedale regionale di Torrette di Ancona per gli accertamenti del caso. Il diciassettenne senigallese è rimasto sempre cosciente, non è in pericolo di vita. La Vigor batte la Monturanese per due reti a zero, due reti di Denis Pesaresi. Arriva la prima vittoria in questa stagione contro la Monturanese. Al quarto tentativo casalingo, il settimo in assoluto. La speranza che per i rosso-blu sia solo la prima di tante soddisfazioni che conducano alla salvezza. È tutto. E questa era l'ultima notizia di oggi. Si conclude quindi il Tg di Newsmarket.it. Grazie per averci seguito. Appuntamento sempre qui alle ore 19. Buona giornata. Grazie.